Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, mi trovo nel Borneo in un posto molto caratteristico, spartano a Sarikei, però vi è una cucina tipica, particolare, ho ordinato una sorta, ecco questo qui che vedete qui sotto, è una sorta di ajarski kachipuri, dentro hanno fatto, vi ho visto preparare, hanno fatto un cerchio tipo quello della pizza, ci hanno messo dentro l'uovo e poi l'hanno richiuso, c'è una salsina che serve per intingere, qui ci sono delle frittelle fatte con dei vegetali, non so cosa sono, ho chiesto ma non so mica riuscito a capire cosa fossero. Comunque vi faccio vedere un po' il posto, una panoramica con un posto molto semplice, vendono un po' di tutto qui dentro, non solo questa cosa qua, in fondo ci sono tanti punti vendi, in fondo c'è anche il reparto cocktail, ok ragazzi ci sentiamo alla prossima.